Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I dodici che Gesù inviò, ordinando loro, «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della Casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. «Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Abbiamo appena sentito, «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Papa Francesco così commenta questo versetto del Vangelo di oggi. Dice, «Queste parole ci sorprendono perché tutti sappiamo che occorre prima arare, seminare e coltivare per poi a tempo debito mietere una messe abbondante». Gesù afferma che la messe è già abbondante. «Ma chi ha lavorato perché il risultato fosse tale?» «La risposta, dice il Papa, è una sola. Dio». «Evidentemente il campo di cui parla Gesù è l'umanità, siamo noi. E l'azione efficace che è causa del molto frutto è la grazia di Dio, la comunione con Lui». «Significa», prosegue Papa Francesco, «che la preghiera di Gesù riguarda la richiesta di aumentare il numero di coloro che sono disponibili a mettersi al servizio del Regno di Dio». «Ma sul fatto che l'umanità sia in grado, con l'aiuto di Dio, di raccogliere una messe abbondante, non ci sono dubbi». «Si tratta di un messaggio di cui abbiamo oggi un immenso bisogno, per non restare impantanati nel pessimismo generato dai cambiamenti climatici, dalle tante e troppe guerre di cui siamo spettatori impotenti, dalle disuguaglianze di cui siamo testimoni e che manifestano ingiustizie e che alimentano quelle sacche di povertà che tutti conosciamo». «Il Vangelo che abbiamo letto non ci chiede di negare quanto di faticoso ci coinvolge e ci aggredisce. L'esatto contrario. Il Vangelo vuole educare la nostra vista e il nostro cuore a fissare e a scorgere il tanto positivo che ci cresce accanto». «E ci ricorda che la bontà di Dio è più forte dei semi negativi che convivono dentro di noi e fuori di noi e che ha la forza di permettere abbondanti raccolti di bene, di bontà e di azioni virtuose, capaci di dare alla nostra vita ogni giorno il sapore del bello, nonostante la zizzania che tutti conosciamo». «Siamo alla fine di un anno sociale e alla vigilia di un tempo generalmente caratterizzato anche dal riposo e dalle vacanze. E tutti noi conosciamo persone generosamente coinvolte e impegnate nel mondo della scuola, dell'educazione, dell'impresa, della sanità, dell'amministrazione pubblica e del volontariato. «Moltissime di queste persone lavorano senza prestare troppa attenzione all'orologio e hanno come senso e fine delle loro attività il bene dell'altro, non solo il loro salario. Sono persone, direbbe il Vangelo di oggi, a servizio del Regno di Dio. «Operai al servizio della messe abbondante generata da Dio». Si noti la qualità principale di questi operai del Signore. danno al loro potere di svolgere attività, le attività di cui sono competenti, la forma liberante del servizio. E quando il potere viene piegato al servizio, nasce la giustizia. Quando è il contrario, il potere viene abitato dal desiderio di comandare e di dominare ed è inseguito per fame e sete di gloria, di successo o di vittoria personale o di parte, siamo al servizio di noi stessi. Nascono egoismo, divisioni e ingiustizie. E i risultati negativi del potere inseguito per la propria ricrezza e prestigio li conosciamo tutti. Penso a tutti coloro che malati o anziani non possono curarsi nel nostro sistema pubblico perché allontanati da disservizi, attese e normi proibitive o da spese e costi insostenibili. Penso anche alle legittime proteste che ho visto di chi deve lavorare per sei mesi all'anno per il predievo fiscale e dunque per il bene comune, per poi ritrovarsi costretto a cercare risposte ai suoi bisogni nel privato perché il pubblico è segnato da negligenze, ritardi, incompetenze o, peggio ancora, da corruzioni. Per il Vangelo di Gesù però non ci sono dubbi. Il mondo è meno brutto di come lo vorremmo vedere e dipingere noi. E se vogliamo star bene e fare star bene chi ci è accanto, dobbiamo prendere una volta per tutte la decisione di diventare collaboratori del Dio di Gesù che ci consegna un unico potere che ci rende beati. Quello che abbiamo sentito nel Vangelo di cacciare gli spiriti impuri che ci avvelenano l'anima. E quali sono questi spiriti impuri? Quelli dell'orgoglio, della superbia, dell'avvarizia, del rancore, della vendetta e dell'ambizione. Guarire, curare e servire chi è nella malattia, nella infermità, nella debolezza e guarire, curare e servire tutti questi che sono veramente in situazione di precarietà. Gesù, anche in questo caso, parla chiaro. Il padre cura il raccolto e la messe è abbondante. Sono gli operai disposti a collaborare con la generosità di Dio che sono pochi. Sono pochi oggi quelli che piegano il loro potere per trasformarlo in un servizio di chi sta male. Sono pochi quelli che credono nella bontà di Dio che sa suscitare opere di giustizia nonostante la nostra avarizia. Sono pochi quelli che seguono la gioia del servire e del vivere per gli altri. Entrare nel gruppo dei pochi chiamati e conosciuti per nome dal Signore Gesù è la premessa di essere uomini e donne libere. Buona domenica. Caro Gesù, quest'anno mio fratello deve fare l'esame di maturità e per questo motivo siamo tutti bloccati in casa e nessuno deve disturbarlo. Tra un poco mi chiederanno anche di non respirare. Posso però scrivere e mi rivolgo a te Gesù per dirti che mi piace tanto scoprire che i tuoi amici li chiami per nome e dopo averli chiamati li rendi capaci di scacciare gli spiriti impuri e guarire ogni malattia e ogni infermità. è bello Gesù scoprire che i tuoi collaboratori non comandano ma non sono padroni di nulla ma sono in grado di servire chi sta male e di aiutare chi è ammalato perché possa guarire. Gesù, sei davvero tu la buona notizia della vita. Chiama anche me per nome. voglio mettermi anch'io a tua disposizione e darlo anche a me il potere di aiutare di curare e di servire gli altri. Grazie di cuore Ciao Gesù Ciao Gesù